È così? È molto interessante questa domanda di Goffredo. Ho due considerazioni. La prima è che gli italiani amano il commissario Montalbano e altri commissari non facilmente trovano spazio presso il pubblico. Seconda considerazione è che la Sanità calabrese è commissionata da dieci anni e allora uno deve anche domandarsi, siccome le situazioni non sembrano essere significativamente migliorate, deve domandarsi che cosa hanno fatto i commissari e di nuovo chi li doveva controllare perché non li ha controllati. Cioè non si può dire che la politica in Calabria è inadeguata per infiltrazioni della criminalità organizzata. Ieri sera ho sentito il procuratore parlare anche di clan, parlare di massoneria deviata. Cioè sembra una realtà rispetto alla quale commissari o non commissari si allargano le braccia. Esatto, ci si arrende. E quindi si lascia incancrenire la situazione. Però questo non è possibile perché il paese è uno, la Calabria è parte del nostro paese e quindi quando le cose non funzionano bisogna cambiare.